bentornati raga e benvenuto se sei un nuovo nel canale e se sei nuovo nel canale sei fortunato per questo è un video informativo ragazzi vi spiego come vincere un account allora mi è venuto in mente sta cosa perché ragazzi perché sotto natale nelle feste un sacco di gente ha fatto dei giveaway hanno regalato account ok eppure io voglio fare una sorta di cosa ma vi voglio chiedere una mano voi aiutate a me e io vi faccio regalo a voi ragazzi allora ho pensato questo ho aperto twitch ok e voglio postare questo video tanto per iniziare per far sì che tutto parta raga voglio che questo video arrivi a 100 like e questo video dopo che arrivata a 100 like ragazzi voglio superare le 100 iscrizioni di twitch quindi raga superare i 100 iscritti sul canale viola e i 100 mi piace ragazzi in questo video e deve succedere tutto in 45 giorni ragazzi se riusciamo a arrivare a questo obiettivo savix regalerà un account farò una live ragazzi con un'estrazione a caso ragazzi completamente a caso vi spiegherò tutto in un prossimo video nel caso riusciamo ad arrivare a 100 like in questo video ragazzi e a 100 iscrizioni sul canale viola link in descrizione io vi ringrazio se mi aiutate e sarò felice di ricambiare regalando un account moddato ragazzi con rango 7000 la fast run e tutto il resto trasferibile su ps5 ragazzi e non solo anche su xbox next gen e giocabile già da subito su xbox old gen ragazzi invece ragazzi se riusciamo a superare i 250 like in questo video e riusciamo a superare le 250 follower di twitch ragazzi del canale viola gli account saranno due in regalo e non uno io spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete e mettete like ragazzi per far partire questa catena di montaggio che non si sa mai potrebbe essere anche molto più spesso potrebbe capitare anche molto più spesso bella rega alla prossima grazie a tutti grazie a tutti